Ma siete ancora lì? Vediamo se mi ricordo ancora come si fa Ragazzi, bentornati! In realtà dovreste dirlo voi a me Come state? Tutto bene? Uno, vi lascio da soli due secondi E voi mi fate ritrovare il canale a 2150 iscritti Uno non se ne può andare da YouTube due mesi interi Mannaggia me! Per ringraziarvi di questo incredibile regalo Lo speciale per i 2000 iscritti sarà una FAQ Voi mi farete delle domande qui sotto nei commenti E io nel prossimo video, citando ovviamente i nomi utenti di chi me le ha fatte Risponderò alle domande Cercate di fare il più intelligente e più interessante possibile Perché ovviamente se ce ne saranno troppe non potrò ovviamente prenderle tutte Altra cosa molto importante Pensavo di portare un ospite Non farlo da solo Tipo o la mia ragazza o qualcuno con cui gioco a Softair Fatemi sapere qui giù nei commenti che cosa preferite Quindi importante, avete tempo fino a... Martedì Perché io il video lo girerò mercoledì Quindi guardate il video il prima possibile e commentate qua sotto in modo tale che io possa rispondere a tutti voi Se volete farvi le domande anche su Instagram Perché ricordo qui sotto c'è linkata la mia pagina Instagram Approfittatene perché sto riprendendo in mano un pochino tutti i miei social E' un'occasione in più per rimanere in contatto con me e avere un pochino di informazioni in più Tolto di mezzo lo speciale Cosa è successo? Molto semplicemente Ho dovuto traslocare per un certo periodo Sono successe inoltre tante tante cose Le torneremo a fare video ogni una barra due settimane In conclusione per farmi perdonare della mia assenza Vi rivelo, vi spoilerò un pochino di progetti che arriveranno a breve Primo, scontri 1v1 con soggetti del software Numero 2 Aggiornamento della camera 2.0 I vari setup che avevo permesso vi avrei fatto vedere il mio setup boschivo E tanto tanto altro Non metto i carri davanti al bue Cosa? Rimanete sintonizzati Attivate la campanella Lasciate un like, commentate così che io possa Poi dopo rispondere alle vostre domande in un video apposta Per festeggiare i 2000 iscritti di questo canale Siete incredibili ragazzi Incredibili E noi ci vediamo mercoledì con il nuovo video Stay angry Più cose Visto che mi avete sormontato di commenti Ma sai come ci chiama quel fucile? Lo farò in modo tale che anche voi Piccoli simpaticoni Possiate avere tutte le informazioni che vi servono